E rimaniamo in tema parlando di Meteo con il nostro esperto in modellini aeronautici. Grazie esperto di Meteo e passiamo al nostro servizio giornaliero sui cani. Si chiama Dalila, era una cagnetta ancora minorenne prima di essere trasformata in un paio di moccassini da saldatore. I padroni l'hanno sbadatamente scambiata per un paio di sandali e vettatamente non do una lavatrice. La cagnetta stronza è stata dimenticata in centrifuga a 60 gradi per più di due ore. Ora Dalila è morta ma sta bene, è tutto grazie all'anticalcare economico che ha bloccato la lavatrice. L'unico non raccomandato dai migliori marchi di lavatrice. E questa sera non perdetevi l'appuntamento con Lucignolo Bella Mer...